Dopo il lockdown ripartono le vaccinazioni. Il servizio della SST di Cremona riapre le porte dopo lo stop dovuto alle misure anti-covid-19. Questo significa che bambini e adolescenti potranno tornare a accedere ai centri per le prestazioni previste dal calendario vaccinale. Per gli adulti restano garantite solo le prestazioni di urgenza, tra cui le vaccinazioni a donne in gravidanza e le vaccinazioni in post-esposizione, compresa l'antitetanica. In queste specifiche situazioni sarà possibile accedere al servizio senza appuntamento durante gli orari d'apertura al pubblico. Restano sospese le vaccinazioni in elezione, cioè rutinarie, e quelle in copagamento. Per accedere al servizio i genitori dei vaccinandi verranno contattati telefonicamente dagli operatori per la messa a punto del programma e l'eseguzione del pre-triage. Gli utenti possono contattare i centri esclusivamente per telefono o post-elettronica perché il servizio di front office rimane sospeso per evitare assembramenti di persone. Si accederà ai centri vaccinali solo se non positivi al coronavirus, asintomatici e apiretici, per questo si è tenuti a misurare la temperatura corporea prima di entrare. Se negli ultimi 15 giorni non si è entrato in stretto contatto con soggetti positivi, senza dispositivi di protezione individuale, solo indossando la mascherina protettiva senza valvola. L'obbligo è valido sia per l'accompagnatore che per il vaccinando. I genitori dovranno inoltre compilare i moduli inviati dal servizio vaccinazioni. I genitori dovranno inoltre compilare i moduli inviati dal servizio vaccinazione.